Ecco a voi quando piove a Napoli, sotto passi allagati nel ramo del lago di Cone. E' come oggi, il lago che si rispetta rimane infantanata nell'acqua. La marcia indietro, altrimenti, e questa è, strade interrotte, un maltempo micidiale. Ecco il temerario, vi è andata bene. Addirittura adesso ho visto che quello che chialleggia è lo scheletro di un frigo. Forse dall'altro modo. Grazie.